Ciao, sono Nadia di Fili in Libertà. Mi occupo di corsi di filatura manuale e tessitura tra rami ai quali aggiungo un pizzico della magia della tintura naturale. In questo video vorrei portarvi con me e mostrarvi il procedimento che ho fatto per arrivare dalla fibra al filo finito. Ho ricevuto l'anno scorso da Paola, una ragazza che mi segue su Instagram, un campione più o meno 100 grammi di lana alpagota che lei aveva recuperato da un allevatore che aveva già lavato e poi mi ha spedito. La pecora alpagota è una razza di pecora originaria del Veneto, in particolare della zona dell'alpago in provincia di Belluno. Quella che mi ha mandato poi mi ha detto essere probabilmente un incrocio di pecora alpagota, quindi non pecora della razza alpagota pura. Comunque sono stata molto contenta di riceverla e ringrazio ancora tanto Paola per avermela spedita perché era da un po' di tempo che volevo fare un piccolo esperimento di lavaggio della fibra. Infatti nonostante Paola l'avesse già lavata e mi ha detto che l'ha fatto con dell'acqua fredda, prendendola in mano mi sono resa conto che per me questa lana aveva ancora un po' di lanolina. La lanolina è un grasso che viene secreto dalle ghiandole della pecora e che la protegge, infatti la lanolina rende poi il vello impermeabile. È un grasso e quindi difficilmente con l'acqua fredda si riesce a togliere del tutto, quindi io ho fatto due prove di lavaggio. Per prima cosa ho preso la lana che avevo e l'ho cernita un'altra volta perché guardandola mi sono accorta che all'interno c'erano ancora delle fibre un po' più grosse, dei rimasugli di parti più piccole dovuti alla tosatura probabilmente con una macchinetta e quindi ho voluto scegliere esclusivamente le parti migliori da poter poi filare. Dopodiché ho preso le varie parti di questa lana e le ho sfiocchettate, le ho aperte in varie direzioni per far uscire setti di vegetali piuttosto che ancora un po' di polvere in modo da avere una fibra il più possibile pulita. In tutto ho lavorato 20 grammi e adesso vi faccio vedere come ho fatto. Il primo tipo di lavaggio e quindi con il detersivo non ho fatto altro che riempire una bacinella, in questo caso è un piccolo contenitore in plastica con dell'acqua calda ci ho messo qualche goccia di detersivo e ho immerso la lana, l'ho lasciata lì per circa 10-20 minuti fino a che non è diventata più o meno tiepida e poi l'ho risciacquata. Mentre il procedimento con la lisciva è stato un po' più elaborato perché mi sono fatta la lisciva da sola. La lisciva in passato era usata come detergente per la casa, ci facevano un po' di tutto, dal lavaggio dei panni al lavaggio dei pavimenti. Si ottiene facendo bollire la cenere con dell'acqua e una volta finito il processo si lascia circa un'ora e mezza a bollire. Si lascia ancora per 24 ore ferma a riposare in modo che la parte di acqua si separi dalla parte più pastosa. La lisciva è un prodotto molto basico per cui bisogna fare attenzione a maneggiarla con cautela. Nel caso sarebbe meglio utilizzare sicuramente dei guanti perché si rischia anche di bruciarsi la pelle. Infatti per utilizzarla va diluita con l'acqua. Io ho preso la lisciva, l'ho messa di nuovo in questo contenitore di plastica, erano 30 grammi circa su un litro di acqua. E poi ho messo a bagno la lana. L'acqua aveva una temperatura di circa 50 gradi. Dopodiché ho immerso la lana e l'ho lasciata a bagno per 8 minuti. L'ho scolata, l'ho lasciata raffreddare su un colino per altri 8 minuti. E poi l'ho lavata, l'ho risciacquata con acqua tiepida. Sul risultato che ho avuto con la lisciva non mi voglio pronunciare più di tanto perché secondo me le quantità che ho utilizzato io sono un po' da rivedere. E quindi sicuramente più avanti farò un altro esperimento perché vorrei capire proprio le differenze. Comunque in generale sia la lana che ho lavato sia con il detersivo sia con la lisciva ho sentito che ha perso un po' di questo grasso. Dopodiché una volta che si è asciugata ho cardato la lana, me la sono preparata in piccole porzioni e l'ho filata in due modi. Con la tecnica dello short draw per ottenere un filo un po' più compatto e con la tecnica del long draw invece per ottenere un filo molto più areato. E questo è il risultato. Questo è il filato che ho abbinato poi a tre con la tecnica del navajo ply e si vede che ha una struttura più compatta. Mentre questo l'ho lavorato con il long draw e si riesce a vedere e percepire la differenza tra i due. E' più arioso mentre questo è un po' più compatto. La cosa che mi ha stupito molto di questa lana già da quando l'avevo presa in mano è la sua elasticità. Infatti la fibra è una bella ondulatura e si vede che se la tiro si vede che ha una certa elasticità e infatti questo poi si vede anche dal filato finito. Mi ha fatto piacere lavorare questa lana perché è una di quelle lane di razze un po' dimenticate. Ne avevo parlato nello scorso video con Sara che è una livatrice di pecora brogna e vi lascio il link per rivedere il video in descrizione e anche qua sopra o qua sopra. Ed essendo una lana abbastanza russica volevo capire se intervenendo sulla filatura ci fossero delle differenze. Infatti tenendo in mano i due filati riesco a percepire quanto filare con questo long draw e quindi lasciare molta più aria all'interno del filato aiuti a renderlo un po' più morbido. Al giorno d'oggi siamo troppo abituati a lavorare lane molto molto morbide però e spesso quindi si tende a lavorare quasi esclusivamente la lana merinos senza però a tenere conto di quello che c'è anche dietro questo tipo di allevamento. Infatti la lana merinos è allevata per lo più in Australia e spesso sono grandi allevamenti intensivi e poi viene spedita magari anche in Italia per essere lavata e questa era una delle cose che Sara ha raccontato durante la sua intervista con grossissimi costi in termini anche di trasporti, comunque di emissioni di CO2 che vengono fatti. Per questo motivo trovo che sia importante riuscire a dare un valore in più anche a delle lane che magari non sono così morbide come vorremmo. Però l'importante è non limitarsi al fatto di pensare che questo tipo di lane debbano essere per forza lavorate per creare magari dei cappelli o degli indumenti che magari sono a stretto contatto con la pelle. Si può pensare anche di utilizzare queste lane magari per fare tappeti o per fare delle tessiture oppure anche per creare degli accessori, magari degli scaldamuscoli che non sono proprio a contatto diretto con la pelle quindi si limita un po' il discorso della non portabilità. Sono stata felice di lavorare questa lana anche per un altro motivo ed è il fatto che lavorare questa lana e farvi vedere questo video è anche un ottimo spunto per parlare un po' dei vari passaggi che ci sono da fare perché ovviamente partire da una fibra grezza quindi che deve essere ancora lavata per arrivare al filato finito è un passaggio abbastanza lungo comunque è necessario prendersi del tempo per farlo. Ho creato una mappa per farvi vedere e per farvi avvicinare a tutto questo processo in un modo un po' diverso seguendo l'alternarsi delle stagioni perché ogni stagione ha dei ritmi e delle energie e questo si può assolutamente trasportare anche nella filatura manuale quindi se siete curiosi di vedere come ho suddiviso tutti questi processi all'interno delle varie stagioni vi invito ad andare a scaricare questa guida e poi magari anche farmi sapere che cosa ne pensate perché troppo spesso mi viene detto che la filatura manuale è un processo molto lento come per tutte le cose c'è bisogno del tempo giusto per fare le cose fatte in una maniera diversa forse in questo modo diluindo il lavoro all'interno di un anno è un'occasione per mettersi in gioco e magari provarci spero che vi sia utile penso di avervi raccontato tutto io ringrazio ancora Paola per questo bellissimo regalo e noi ci vediamo presto al prossimo video ciao ciao